A questa decisione si arriva per valutazioni politiche. Quando si costituisce parte civile un Ministero in un processo penale c'è una valutazione sia da parte del Ministero che da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza la Costituzione. Alla base della decisione c'è una particolare attenzione alla salubrità dell'ambiente. In questo caso il processo di per sé naturalmente esige una particolare attenzione. Dopo il Ministero dell'Ambiente ci sarà la Costituzione anche del Ministero della Salute.